carissimi fratelli e sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo stamattina il vangelo di marco capitolo 3 versetti 20 a 21 mentre che gesù stava a casa o in casa c'era tanta folla però non aveva tempo di mangiare lui e i discepoli non avevano il tempo di mangiare i suoi genitori vengono a prenderlo perché dicevano che è fuori di testa quello che ci racconta il vangelo di marco gesù è fuori di testa dunque gesù è pazzo gesù e non si controlla più tra virgolette e non è che gesù è fuori testa come si può pensare nel senso della pazzia ma vi ricordate della parola di geremia l'amore del tuo parola della tua parola signore mi divora ecco la tua parola signore mi divora e san paolo dirà io sono pazzo nel signore e quando uno ama qualcosa qualcuno si dedica e gli manca neanche il tempo per se stesso ecco l'atteggiamento di gesù dunque l'amore suo gli permette di dedicarsi totalmente al servizio del suo padre e dunque non ha neanche il tempo di di mangiare perché il servizio l'amore per servizio del suo padre è talmente forte si lascia andare guidato sempre dallo spirito santo e i suoi discepoli collaborano in questa dinamica entrano in questa logica ecco carissimi dove si può portare proprio l'amore per qualcosa e gesù qui ci dà una bellissima testimonianza che veramente non si ritiene per se stesso quando uno ama qualcosa soprattutto questa missione dell'annuncio della buona notizia e così non possiamo tornare indietro noi cristiani quando abbiamo una responsabilità e quando abbiamo ci hanno assegnato siamo una missione ogni servizio ogni missione che si realizza con amore ti porta a questa dimensione c'è una una forma di di pazzia una forma di di fuori noi stessi perché cominceremo a realizzare delle cose che qualche volta superano le nostre forze umane perché c'è lo spirito che ci guida c'è lo spirito che ci aiuta e l'uomo da di fuori osservando guardando non può capire niente perché non sono più noi a realizzare ma è il signore che realizza ogni cosa nelle nostre mani ecco questa fuori di testa che si può realizzare anche a noi è interessante anche per la la prima la prima lettura di oggi davide piange per saul che è morto ecco carissimi che testimoniano già ieri davide ti dava una bellissima testimonianza non ha voluto uccidere e saul ha avuto compassione ha avuto pietà ha detto no tu mi vuoi del male tu mi vuoi uccidere ma io non ho qualcosa contro di te e non ci uccido ci lascio vivere è una lezione è una testimonianza e oggi davide dovrebbe ridere della morte del suo nemico di colui che cerca che ha cercato di ucciderlo dovrebbe gioirsi dove dovrebbe ridere fare festa ma sta piangendo ecco carissimi un altro esempio noi qualche volta ridiamo della sofferenza della morte degli altri addirittura qualche volta diciamo ecco lo merita è una punizione da parte del signore perché quello che ha fatto è quello che sta pagando ecco il dio l'ha punito il signore l'ha punito allora è perché da piangere perché da compagno e compatire no non si può ridere dalla sofferenza della persona anche se questa persona è stata cattiva verso di noi ci ha fatto talmente del male ma non può non possiamo dire ecco la ricompensa sua lasciamo dio giudicare lasciamo dio dire fare ogni cosa su ciascuno di noi perché ciascuno di noi risponderà alle sue azioni davanti al signore allora non possiamo ridere non possiamo gioire della morte della sofferenza ma anzi compatire come lo sta facendo davide che lo spirito ci aiuti a pregare per queste persone che soffrono che muoiono al di là di quello che ci hanno fatto come negatività vi auguro un buon sabato che dio vi benedica sempre